Salve a tutti, sono Pasquale De Frico, ho 17 anni e vengo da Frattemina Ore, un piccolo paese in provincia di Napoli. Frequento il giocatore Giuseppe Muscati di Sant'Antimo e sono l'allievo del maestro Antonio Ezzetta. Dopo il liceo avrei intenzione di frequentare il Conservatorio di Napoli, San Pietro Maiella, oppure trasferirmi a Londra alla Royal Academy of Music. Dopo il conservatorio vorrei diventare un grandissimo concertista e girare i teatri di tutto il mondo conoscendo i migliori direttori d'orchestra. Nel prossimo video suonerò la Fantasia Improvviso per la 66 di Chopin, suonata ad un concorso internazionale di Noceo Inferiore. Spero sia di posto all'alimento, buon ascolto. Spero sia di posto all'alimento, buon ascolto. Spero sia di posto all'alimento, buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.